e per gli amici di canale italia insieme a due giovanissimi che hanno tanto da raccontare giovani sì ma altrettanto capaci sono due giovani attori teatrali ci andiamo a presentare io sono marco antonio bellini tu sei andrea bianchi e andrea bianchi attori teatrali di una grossa opera teatrale in tutti i sensi sarebbe la traviata che parte vi hanno affidato in questa opera allora io interpreterò l'amico della protagonista che diciamo che interpreterà un ballo farà un ballo fra una recitazione insomma lei è una attrice musicista e cantante polivalente e io sarò appunto il personaggio che l'accompagnerà come amico invece tu marco allora io farò la parte del compagno di questa di questa attrice che sarà la protagonista con me esattamente chiama allora carol caro lei praticamente è una ballerina professionista e oltre a essere ballerina è anche una regista e lavoreremo insieme su perché il testo lo stiamo ancora costruendo quindi è un lavoro che avremo a breve a settembre ottobre dovrebbe andrà sempre il teatro san babila il teatro primis in cui reciteremo insieme e praticamente niente scusa hai detto il teatro san babila di milano san babila di milano sì tanta roba cioè il teatro san babila di milano l'ha traviata il regista il regista stavo per aggiungere allora la regista sarà una regista grandiosa si chiama paola pellegrino lei compone diverse opere teatrali insomma è una regista abbastanza famosa e io con la quale ho fatto appena caravaggio interpretato mario minniti il personaggio che insomma accompagna caravaggio nelle sue opere allora voi avete vi hanno già consegnato il copione di questa vostra opera da interpretare ancora no ancora non ci stiamo lavorando però però stiamo lavorando lo stiamo realizzando anche perché un'opera un po più particolare sul fatto che vogliamo realizzarla anche tipo musical quindi ci saranno anche le ballerine ci saranno i cantanti e gli attori insieme vogliamo fare una cosa perché la traviata non è proprio il classico traviata viene un pochino sfumato con queste però caravaggio l'hai già interpretato il personaggio che accompagna ascolta quelle signorine che sono lì sedute comode sul divano e vi stanno e vi stanno no no queste signorine che vi stanno seguendo da casa voglio una vostra interpretazione interpreta quello qualunque tu cosa voglia allora appunto stiamo parlando di caravaggio allora faccio una piccola parte che ho dovuto interpretare due settimane fa appunto al teatro mario minniti pittore apprendista sono aggregato al maestro e lo aiuto alla bottega e mo tocca a te allora improvvisiamo un testo poetico di cui sono molto innamorato che praticamente inizia così tanto tempo fa la follia decise di invitare tutti i sentimenti per un'insolita riunione conviviale raccoltosi tutti intorno ad un caffè per animare l'incontro la follia propose si gioca a nascondino poi va avanti è molto lungo e quasi deve scattare l'applauso di tutti gli amici qui presenti per i nostri amici l'applauso applaudiamoli a loro bravissimi ragazzi allora da settembre al teatro san babbila con la traviata con la traviata regia di paola pellegrino di milano con con andrea e marco bellini in bocca al lupo ragazzi buon lavoro vi verremo a guardare grazie